Ebbene sì, senza oggetto le nostre email non vengono recapitate, almeno questo per quanto riguarda Gmail e per quanto riguarda i cellulari e il PC. Quindi Gmail sia su cellulare che su PC, se non mettete l'oggetto l'email non viene recapitata, voi potete scrivere un'email, mettere l'indirizzo di destinazione, mettere gli allegati e poi fare invia e senza oggetto avrete la certezza che la vostra email non verrà recapitata al destinatario. E' una cosa che dopo anni a non capire come mai certe volte le mie email non venivano recapitate, ho scoperto questa cosa. Quindi ho immaginato che magari anche tante altre persone si fossero trovate nelle condizioni di chiedersi come mai la mia email oggi non è stata recapitata. Sarà perché non ho messo l'oggetto? Ma no dai non ci credo. Invece è proprio così. Ecco, è una cosa che ho potuto constatare e di cui ho avuto conferma in definitiva oggi proprio perché ho fatto un tentativo. Ecco, l'ho rimandata più volte la stessa email prima senza oggetto e non veniva mai recapitata, poi ho provato a mettere l'oggetto ed è stata recapitata. Quindi è così, è un dato di fatto. Quindi ricordatevi di mettere sempre l'oggetto, ok? Nelle vostre email. Un saluto, ciao! Ciao!